Parte dalla Puglia il rilancio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. Oggi e domani a Bari il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha organizzato infatti la quarta conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza. Un'occasione per far incontrare amministratori centrali e territoriali, associazioni, privato sociale, imprese e tutti gli attori che si occupano di infanzia e adolescenza mettendo a disposizione più spazi di confronto e di riflessione. Per questa conferenza peraltro si è registrata una partecipazione senza precedenti, oltre mille iscritti. Sono due giorni di lavoro intenso, commenta l'assessore regionale al welfare e alla salute Elena Gentile. E il mio ringraziamento va al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per aver scelto la Puglia e la città di Bari quale sede della quarta edizione della conferenza nazionale. È un riconoscimento importante alla Puglia e al Comune di Bari per aver saputo costantemente negli anni consolidare politiche mirate alle famiglie e all'infanzia, nonostante le scelte riduzionistiche di tagli finanziari importanti operati dal Governo centrale, proprio nel momento dell'impoverimento più drammatico delle famiglie italiane, successivo al dopoguerra. Ha dichiarato l'assessore Gentile. Alla conferenza nazionale partecipa la Regione Puglia con l'assessorato regionale al welfare, che avrà una postazione dedicata assieme a quelle del Ministero e del Comune. Oggi il governatore della Puglia Vendola, insieme al sindaco di Bari Emiliano, hanno accolto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. Bisogna avere anche la capacità di scegliere negli obiettivi e tra gli obiettivi. Questa scelta dell'infanzia per questo Governo è una scelta assolutamente rilevante. Basta pensare al Presidente Renzi che sistematicamente destina una parte del suo tempo agli incontri nelle scuole e abbiamo destinato una quantità rilevante di risorse al miglioramento degli ambienti fisici dove la scuola si svolge. Perché è uno dei modi per rappresentare concretamente una scelta. Quindi un conto è dire vogliamo bene la scuola, un altro conto è dire 3 miliardi e mezzo li mettiamo per sistemare le scuole. Domani invece analisi dei lavori dei singoli gruppi, moderata da Raffaele Tangorra, direttore generale del Ministero del Lavoro. Parteciperanno anche l'Onorevole Maria Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia, Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Vincenzo Spadafora, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Piero Fassino, Presidente dell'Anci e molti altri autorevoli esperti nazionali.